Passo direttamente la parola alla professoressa Albertina Vittoria, mi pare che direttamente. Io ci sono, dati tempi un po' ristretti, se già sono presenti gli altri, se siete d'accordo io proseguirei, insomma. Per me va bene. Bene, grazie anche a Valentine e grazie agli altri relatori per questa sessione. Sessione, proseguiamo in questo settore, diciamo, dedicato alla Repubblica lungo dopo guerra e appunto alla sessione sulle culture, società e identità. Non faccio introduzioni se non soltanto per dire che, intanto ringrazio i relatori che mi hanno mandato i loro paper e ringrazio anche gli organizzatori per avermi coinvolto, aver organizzato questa sessione e questo convegno generale. E volevo appunto dire come scrive Taviani all'inizio, insomma, del saggio che mi ha inviato, dice giustamente la questione degli intellettuali è un pilastro della storia culturale del PC nel dopoguerra. E ovviamente, chi più di me, sono particolarmente d'accordo con questa affermazione e ecco, sono anche, come dire, noto con piacere che questo qui effettivamente è il primo convegno, a livello nazionale intendo, che parla della storia del PC in generale o per una sua ampia parte, in cui c'è non una sessione ma ben due sessioni dedicate comunque a temi, diciamo, in senso lato di storia dell'organizzazione culturale, dei mass media, dell'identità, insomma, a questioni che in passato non avevano apposite trattazioni, insomma, ecco, anzi erano, diciamo, spesso escluse. Invece questo mi sembra un fatto importante e adesso le due sessioni, la precedente e questa qui, sono diverse tra di loro ma sicuramente si integrano.